Ciao! Ti sei già iscritto al nostro canale? Allora andiamo a vedere il nuovo volantino. Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore. Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Su trovavolantini.it, le offerte della tua città a portata di un click. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Ehi, abbiamo superato i 20.000 iscritti. E piantato l'albero come promessa. Continua a seguirci. Pianteremo altri alberi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.